Hummus, un viaggio gustoso nel mondo dei sapori medio-orientali. L'hummus è un piatto tradizionale del Medio Oriente, amato per la sua semplicità e ricco sapore. È una crema di ceci arricchita con taina, aglio, limone e olio d'oliva, un vero concentrato di salute e benessere. Il primo beneficio di questo piatto è la sua ricchezza in proteine vegetali. Queste proteine sono essenziali per il nostro organismo, aiutano a costruire e riparare tessuti corporei, a produrre ormoni e a mantenere il sistema immunitario forte. L'hummus è anche una fonte di fibre, che contribuiscono alla regolarità intestinale, alla gestione del peso e al controllo del colesterolo. Rende sazi ma non appesantisce, rendendolo un perfetto spuntino o antipasto. Un altro motivo per amare l'hummus è la presenza di acidi grassi monoinsaturi, forniti dall'olio d'oliva. Questi acidi grassi possono ridurre il rischio di malattie cardiache e aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sotto controllo. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. L'hummus è anche ricco di vitamine e minerali, compresi ferro, folato, vitamina C e vitamina B6. Questi nutrienti contribuiscono alla salute generale e al benessere, sostenendo il sistema immunitario e la produzione di energia. Non dimentichiamo il taina, una pasta di semi di sesamo ricca di calcio, che aiuta a mantenere le ossa forti. Il sesamo è anche una fonte di lignani, composti antiossidanti che possono aiutare a proteggere le cellule dal danno ossidativo. L'hummus si abbina perfettamente con verdure crude, pane pita, crackers integrali o come condimento per insalate e piatti principali. È un modo semplice ed elegante per aumentare l'apporto di nutrienti dei tuoi pasti. Nonostante tutti questi benefici, l'hummus ha anche alcune controindicazioni. È un alimento ad alto contenuto calorico, quindi è importante consumarlo con moderazione se si sta cercando di perdere peso. Inoltre, l'hummus può contenere quantità significative di sale, che può aumentare la pressione sanguigna se consumato in eccesso. È importante controllare le etichette dei prodotti commerciali e, se possibile, preparare l'hummus in casa per controllare il contenuto di sale. Infine, l'hummus può causare reazioni allergiche in alcune persone. I ceci, il sesamo e l'aglio sono allergeni comuni, quindi è importante prestare attenzione se sei allergico a questi ingredienti. Nonostante queste controindicazioni, l'hummus rimane un alimento delizioso e nutriente che può apportare numerosi benefici alla salute se consumato come parte di una dieta equilibrata. Nel complesso, l'hummus è un alimento versatile che può essere goduto in molti modi. Può essere utilizzato come spuntino, come antipasto o come condimento per i tuoi piatti preferiti. Ricco di sapore e nutriente, l'hummus non è solo un piatto gustoso, ma un vero tocca sana per la salute. Con un perfetto equilibrio di proteine, fibre, vitamine e minerali, è un alimento che non può mancare nella tua dieta. Se non hai mai provato l'hummus, ti invitiamo a dare una possibilità a questo piatto versatile e nutriente. Potresti scoprire un nuovo preferito? In conclusione, l'hummus non è solo un piatto delizioso, ma anche una scelta intelligente per la salute. Con i suoi numerosi benefici e le sue poche controindicazioni, è un alimento da tenere in considerazione nella tua dieta quotidiana. Ricorda, come con qualsiasi alimento, l'hummus deve essere consumato con moderazione come parte di una dieta equilibrata. Non dimenticate di provare diverse ricette e varianti per mantenere le cose interessanti. L'hummus è un piatto che tutti possono godere, ricco di sapore e benefico per la salute. È tempo di immergersi nel mondo gustoso dell'hummus. Goditi il viaggio nel mondo dell'hummus. La tua salute e il tuo palato te ne saranno grati. Buon appetito! Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.